Qui partiamo da lontano 2004, quanto la nostra amministrazione 17 anni fa ha vinto l'elezione in questo comune, ci siamo trovati con questa villa che è con una delibera di abbattimento in cambio di mattoni e quindi c'era l'abbattimento di questa villa. Noi subentrati subito dopo la vincita abbiamo revocato questa delibera e attraverso la comunità montana abbiamo cooptato dei finanziamenti dei fondi Cipe per 1.200.000 euro e subito dopo abbiamo dato vita nuovamente a questa villa. Poi con la soppressione delle comunità montane purtroppo si era bloccato tutto l'iter della ricostruzione e siamo usciti finalmente da questo tunnel burrascoso solo questo gennaio del 2020. Subito dopo come amministrazione comunale ci eravamo dati un obiettivo, abbiamo subito colto invece come consiglio regionale l'occasione di questa villa per dargli una destinazione regionale con la destinazione della protezione civile regionale. Come avete visto all'interno abbiamo già dato inizio ai lavori, abbiamo eseguito lo screening di massa di tutta la provincia di Teramo con il coordinamento proprio da questa villa. È un ringraziamento particolare a tutti i miei colleghi del Consiglio regionale che hanno creduto in questa struttura e in questo progetto.